buongiorno buona domenica a tutti ringraziamo prima di tutto il signore per questo nuovo giorno che ci ha dato da vivere e che ci protegga tutti ci benedica con il suo grande amore l'amore che dio ha per noi che è immenso è infinito quindi chiediamo al signore appunto di benedice di far scendere su di noi il suo spirito farlo scendere su di noi dentro di noi sul nostro capo sulla nostra bocca e sulle nostre mani affinché ci segue tutta la giornata e ci indirizzi sul cammino giusto che cosa ci dice il versetto di oggi il versetto di oggi parla del successo e delle idee errate che spesso noi abbiamo del successo ovviamente quello che vado a leggervi parla del successo naturale del successo terreno che tutti vogliamo raggiungere però in esso è una come se fosse una parabola per farci capire che come noi otteniamo il successo materiale il successo in questa vita terrena e allo stesso modo dovremmo lavorare per ottenere poi il successo nella nostra vita spirituale no spesso anche gesù nel vangelo faceva dei paragoni tra tra le cose con le cose naturali delle parabole no parlava del seminatore parlava di cose che si vedevano materiali del pastore di tutte queste cose però dentro queste parabole che parlano di cose che noi vediamo che tocchiamo della natura quindi era più semplice per per noi per quelle per le persone di allora capire però si cela ovviamente anche un discorso più profondo un discorso spirituale cioè dio infatti tutto ciò che noi vediamo nel mondo è materiale però è stato tratto dallo spirituale perché esistono prima le cose spirituali e poi da esse dio ha tratto le cose materiale per cui viviamo quindi quando parliamo di queste cose parliamo sì del corpo dello stare bene qui ma parliamo anche soprattutto dello spirito è come ottenere successo nella vita il versetto di oggi però è preso dal nuovo testamento dalla lettera a timoteo quindi andiamo a leggerlo per chi ha la bibbia io direi di aprirla di andarla a leggere insieme perché una cosa è soltanto ascoltare è una cosa è leggerla magari anche dopo che avete ascoltato questo questo video potete leggerla meditarvela e vedere veramente il signore che cosa dice al vostro cuore perché anche se le parole sono le stesse può essere un insegnamento diverso differente per ognuno di noi che ascoltiamo quindi come dicevo andiamo a prendere dalla lettera di san paolo a timoteo in primo timoteo capitolo 4 versetto numero 15 ripeto prima timoteo 4 versetto 15 che dice occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti quindi qui che cosa diceva paolo in definitiva diceva di occuparsi di quelle cose e basta e si si doveva dedicare però interamente quindi mente corpo anima doveva dare tutto se stesso per quelle cose si doveva dedicare e solo in questo modo poteva raggiungere il progresso che noi chiamiamo anche successo quindi che cosa si dice che dobbiamo essere delle persone che quando si impegnano per qualcosa devono portarla avanti ci devono mettere tutto anima cuore spirito in ciò che facciamo non non dobbiamo stancarci non dobbiamo mollare per strada non non dobbiamo dire vabbè insomma è andata così non fa niente se è qualcosa di importante di qualcosa di vitale importanza e noi dobbiamo proseguire dobbiamo proseguire con l'amore di dio dobbiamo proseguire con la forza di dio dobbiamo conoscere dio nel senso che dio si vuol vuol farsi conoscere come vuole che noi lo sperimentiamo che noi lo viviamo nella nostra vita non è soltanto un dio che sta lassù in chissà quale cielo e noi stiamo qui lontano da lui e non lo conosciamo lui vuole che noi lo conosciamo e quindi noi dobbiamo proprio chiederglielo di conoscerlo noi dobbiamo dire signore io voglio conoscerti nel profondo di te stesso non voglio accontentarmi soltanto del sentito dire cioè non voglio soltanto sentire che gli altri mi parlano di te io voglio parlare con te cioè io non voglio soltanto sentire dei miracoli che tu facevi duemila anni fa io voglio che oggi tu fai dei miracoli perché tu esisti tu vuoi farti conoscere tu vuoi far conoscere come dando la pace al cuore facendo ancora oggi delle guarigioni dicendomi qual è la strada che tu hai voluto per me perché mi hai creato qual è il mio cammino qual è la strada quali sono le cose che devo fare oggi quello che devo fare domani io voglio camminare con te e se io sono disposta a camminare con te sono sicura che tu mi ami di un amore eterno allora tu farai in modo di venire nella mia vita di farti conoscere di sperimentarti quest'amore perché l'amore è anche esperienza diretta con dio noi vogliamo credere in un dio vivo in un dio che esiste qui non un dio morto non un dio in cui si fanno solo litanie preghiere senza sperimentarlo senza vederlo senza toccarlo lo dobbiamo toccare anche nella nostra anima al nostro cuore la nostra mente nella nostra vita dobbiamo cogliere i segni che lui ci manda giorno per giorno e anche questo è successo il successo non lo sperimentiamo assieme a dio ci dobbiamo far guidare da lui come si sono fatti guidare i più grandi profeti abramo seguiva dove dio lo mandava davide il più grande re però lui cantava inne al signore ogni giorno era gli cantava la gloria perché perché davide aveva un rapporto con dio lo sperimentava nella sua vita e anche noi dobbiamo fare lo stesso e questo ci porterà il successo successo non è quando si parla di successo è attenzione che parliamo soltanto di ricchezza di soldi cioè dio ci darà sempre quello che abbiamo bisogno se noi lavoriamo per lui questo è poco ma sicuro ci darà il necessario magari ce lo darà anche in sovrabbondanza ma questo è superfluo quando noi abbiamo la pace nel cuore l'amore quando sentiamo di fare le cose giuste quando stiamo bene non abbiamo bisogno di tante cose perché tutte quelle cose già le abbiamo dentro di noi andiamo a leggere quindi dice ecco alcune idee diffuse ed errate sul successo prima pensiamo che il successo sia impossibile quindi lo critichiamo no quante volte noi diciamo eh sì che bello sarebbe se io potessi ma è impossibile difficile non tutti ci riescono e siamo un po a volte negativi no catastrofisti diciamo che non possiamo ottenere nulla lo vorremmo lo desideriamo ma non ci proviamo nemmeno perché per noi è inarrivabile inafferrabile quindi dice vogliamo credere che la vita debba essere facile perciò riteniamo che tutto ciò che è difficile sia impossibile cioè per noi impegnarci troppo eh ci stanca diciamo noi sempre tanti impegnati però quando dobbiamo metterci veramente il cuore nelle cose che facciamo molliamo molliamo anche prima di iniziare perché ci sembra impossibile diciamo che è impossibile perché non ci vogliamo neanche provare no poi quando il successo ci sfugge gettiamo la spugna e diciamo a me dopo tutto non serve ce la raccontiamo io direi diciamo vabbè tanto a me non serviva che fa ma ma non è veramente così dentro di noi no penso che un po male ci siamo rimasti ma se non ci proviamo e se qualcuno che consideriamo meno meritevole di noi ottiene successo ci ritiamo davvero vediamo che poi qualcun altro ha raggiunto quello che volevamo raggiungere noi e quindi ci ritiamo ci arrabbiamo a volte siamo invidiosi no e ci ritiamo anche con quella persona anche se personalmente a noi non ci ha fatto nulla perché perché lo lo vediamo colpevole di averci sottratto quella cosa che noi volevamo ma il colpevole non è lui lui è semplicemente ha fatto la sua strada si è impegnato e ha ottenuto magari noi non siamo non abbiamo dato abbastanza non ci abbiamo creduto abbastanza quindi che colpa all'altro questo logicamente io parlo sempre del successo però in grazia di dio è cioè non sto parlando sicuramente di coloro che ottengono successo derubando gli altri imbrogliando gli altri facendo del male agli altri perché quello non sarebbe un successo magari sembra successo qui su questa terra perché li vediamo pieni di soldi di potere anche alcuni ovviamente però poi hanno perso la cosa che noi sappiamo che è più importante che è l'anima non ci facciamo rubare la nostra anima perché quella è più grande tesoro che abbiamo e a nulla vale conquistare il mondo se poi perdiamo noi stessi perdiamo la nostra anima questo è importante quindi avere successo con la grazia di dio con l'accompagnamento di dio nelle cose buone della vita e cosa buona e giusta io direi ma se poi parliamo di successo fatto con 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 cose cattive quindi con traffici illeciti con derubando la gente imbrogliando ammazzando quello quello non direi che è successo quindi io quando quando qui parla di successo si riferisce sempre ovviamente alle cose positive e quindi dice pensiamo che il successo sia qualcosa di mistico quindi lo ricerchiamo l'autore imprenditore qui parla di un imprenditore che si chiamava set godin dice dobbiamo smettere di inseguire il successo fulminio diciamo che noi vogliamo tutto e subito oggi è un pochino la la nostra vita è basata sul consumismo no e quindi il consumismo sta in pochino in tutte le aree della nostra vita anche quando vogliamo ottenere qualcosa abbiamo fretta non vogliamo attendere non vogliamo sacrificarci vogliamo tutto adesso 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 subito ecco vogliamo tutto e subito non abbiamo pazienza non sappiamo aspettare quindi non si vince dice una medaglia olimpica con sole poche settimane di allenamento intenso giustamente no non esiste un'opera sensazionale che nasca da un giorno all'altro le grandi aziende e anche le grandi chiese perché aziende stiamo parlando del successo del reno chiese e il successo spirituale quindi le grandi chiese non nascono in una notte non è che io mi alzo la mattina faccio le chiese divento il capo dei pastori faccio tutte queste cose così da un giorno all'altro ovviamente no c'è bisogno di un cammino c'è un bisogno di un cammino fuori e dentro noi stessi c'è bisogno di impegno ogni cosa grande è stata costruita esattamente nello stesso modo pezzettino per pezzettino passo dopo passo un po alla volta non ci sono scorciatoi devi essere disposto a pagare il prezzo terza cosa che pensiamo è che il successo avvenga per caso no dice destino ne crediamo a volte siamo fatalisti crediamo molto nel destino quindi avviene per caso e speriamo di ottenerla anche noi speriamo che ne so che per caso il destino me lo faccia avere anche a me anche perché perché oggi ci sono molti giocatori ci sono sempre stati per oggi sa se vai soltanto in un'edicola in un tabaccaio c'è tanta gente che gioca perché perché crede nel destino crede che se il destino vuole divento ricco faccio questo questo e questo più che all'impegno personale crede di poter ottenere facilmente magari giocando e diciamo quella persona si è trovata al posto giusto al momento giusto no ci ci giustifichiamo anche in questo modo ha tenuto successo perché è stata fortunata diciamo le probabilità che questa venga sono tante quanto quella di vincere alla lotteria quindi ecco come stavo dicendo prima una su 18 milioni se vuoi davvero avere successo concorderai con quel negoziante che sposa in vetrina questo cartello regole per il successo regola numero uno dice consegna la merce regola numero due le altre 58 non sono importanti questo che vuol dire cioè se tu non consegni la merce non ti impegni non avrai mai successo quindi bisogna impegnarsi questo può valere anche per per te no che stai ascoltando stamattina magari dovevi fare qualcosa e ci stai rinunciando stai mollando non lo credi possibile non ti credi abbastanza forte non ti credi abbastanza intelligente non ti credi adatto pensi che sei sfortunata che sei sfortunato che non è mai il tuo momento che gli altri sono migliori di te che hanno più qualità di te oppure hanno più fortuna di te e il signore stamattina ti vuole parlare anche di questo perché il signore ti ama e quanto si ama lo si dimostra no cioè quando voi amate i vostri figli o amate qualcuno in modo viscerale in modo forte che cosa fate non soltanto lo amate ma lo dimostrate come consigliandolo volendo il suo bene volendo che abbia una vita serena felice cercate cercate di evitargli tutte quelle contrarietà che il mondo può mette può dargli no anche se questo sappiamo che è impossibile perché ogni persona poi deve affrontare queste cose della vita però un genitore in particolar modo cosa vorrebbe che il figlio avesse la strada spianata che tutto gli andasse bene gli vorrebbe dare dei consigli per farlo per farlo diventare felice perché la felicità del figlio è la sua felicità così anche dio vuole che noi siamo felice non vuole che noi siamo tutti disperati piangiamo stiamo male no assolutamente anche dio essendo padre madre anche lui ovviamente vuole il bene dei suoi figli quindi se dio ti sta spronando stamattina ti sta dicendo tu vali perché sei mio figlio sei mia figlia io ti amo se tu ti appoggi a me se tu chiedi la mia grazia segui i miei comandamenti vivi questa questo rapporto con me intensamente lo vivi realmente e riesci a parlarmi riesci a starmi vicino riesci ad amarmi ad amare gli altri il successo tu lo otterrai sarai una donna di successo sarai un uomo di successo perché dio ti farà avere il successo che tu vuoi quello buono quello puro quello che non fa male a nessuno ma che anzi anzi rende gloria a dio quindi impegnati stamattina non demordere fai quello che avevi in mente di fare provaci male che vada vuol dire che non è il cammino giusto per te forse hai capito male dovrai metterti in meditazione chiedere meglio al signore qual è il tuo cammino in che cosa tu puoi avere successo e chiediglielo e pretendi la risposta io sento che in questo momento noi dobbiamo pretendere le risposte perché perché dio vuole farsi conoscere sempre di più no lo spirito del signore è ancora di più sulla terra su questo mondo con tutte queste cose che stanno succedendo quindi c'è bisogno che i suoi figli abbiano un contatto sempre più stretto con lui quindi stamattina il signore ti sta proprio dicendo impegnati fai quella cosa non avere paura se c'è qualche problema chiedi a me prega il signore mettiti in comunicazione con lui prendi la forza da lui perché tu non sei inferiore a nessun altro tu sei una regina tu sei un re sei il figlio di dio sei figlia del re figlio del re quindi non demoralizzarti non sentirti inferiore magari la tua vita non è facile in questo momento magari stai subendo qualche trauma qualcosa che non va bene qualcosa che ti ha ferito che ti fa star male che ti preoccupa cosa puoi fare afferrare la mano di dio chiedergliela dire papà io ho questo problema tu mi devi aiutare io ho bisogno di capire che cosa devo farne della mia vita dei mie giorni delle mie cose devi dirmelo e mettiti in ascolto magari lui ti parlerà in qualsiasi modo provaci vedi è come il successo provaci provaci sempre allenati ogni giorno allenati nella preghiera allenati nella meditazione nel leggere la parola devi allenarti perché altrimenti non è così facile non è che che riusciamo da un giorno all'altro a essere spiritualmente maturi come a ottenere il successo no quindi alleniamoci ci dice il signore allenatevi anche spiritualmente e non demordete non mollate alla fine successo arriverà e leggiamo l'ultima parola che dice paolo condivise la sua formula per il successo con timoteo e questa funziona sempre sempre in tutte le aree della vita e l'andiamo a rileggere appunto che dice occupati di queste cose e dedicati interamente a esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti e adesso vi lascio con una buona giornata nel signore che il signore vi benedica a tutti che conceda la pace ai nostri cuori perché se la pace non è nel cuore degli uomini non può essere sulla terra è importante che ognuno di noi faccia pace con se stesso faccia pace con gli altri senta la pace nel proprio cuore faccia entrare dio per poi promuovere la pace sulla terra perché finché nel cuore degli uomini non vivrà la pace la pace non potrà esserci sulla terra quindi noi continuiamo a pregare a pregare affinché il signore mandi il suo spirito nelle menti nei cuori delle persone che devono prendere delle decisioni no noi diciamo dei potenti di coloro che governano le nazioni delle autorità preghiamo intensamente che il signore mandi il suo spirito nelle menti di queste persone nel loro cuori perché solo così quando lo spirito del signore avrà riempito il loro cuore loro potranno provare pace quella pace che hanno dentro la trasferiranno fuori noi il nostro piccolo non possiamo fare altro in questo momento sembra piccolo ma noi siamo figli di dio e con l'autorità di figli di dio dobbiamo promuovere la pace quindi preghiamo con autorità e chiediamo che la pace sia nei nostri cuori e nei cuori delle persone che stanno a capo delle nazioni a capo delle decisioni affinché la guerra finisca dentro di noi e anche fuori di noi e che sia quello che la volontà di dio sia sempre fatta ovviamente un bacio a tutti buona domenica pace shalom alla prossima ciao